E' ufficialmente arrivata l'estate. Le spiagge tornano a ripopolarsi e sul lungomare non si vedono più solo cittadini intendi a fare jogging. I primi turisti iniziano ad apparire e i gelesi fuori per lavoro fanno ritorno a casa per le vacanze. Gela si prepara a vestire i panni di una città turistica, ma ci sono diversi aspetti su cui c'è ancora molto da lavorare. Primo fra tutti la pulizia delle strade, argomento che ha sempre interessato tutta la popolazione. In particolare gli esercenti, che spesso si sono dovuti allontanare dal posto di lavoro per rendere più decoroso l'ingresso della propria attività, armandosi di pazienza, scopa e paletta. Abbiamo ricevuto delle segnalazioni per quanto riguarda la mancata pulizia del corso. Tu hai la tua attività qui, cosa ci dici? Assolutamente no, io non posso, ci sono tante alla mentele da fare, ma proprio questa no, perché ogni mattina passano, fanno il lavaggio della strada, tolgono la spazzatura, soprattutto non posso dire una cosa che non rispecchia la realtà. Per me, a livello di questo, non mi posso lamentare. Sulle strade principali della città, come il Corso Salvatore Aldisio, la situazione è sempre a essere migliorata, ma nelle strade secondarie spesso si trovano delle mini discariche, con tanto di vecchi mobili e materassi. Invio un messaggio a chi ci amministra di essere celeri alla riqualificazione di queste stradine che si trovano più in periferia rispetto alle strade principali, perché a breve verranno i nostri compaesani da fuori, a breve speriamo che verranno pure i turisti e cercheremo così di farli avere un posto più adeguato e rispettoso nei confronti della città. La pulizia deve essere uno dei punti principali e fondamentali da parte dell'amministrazione. Dobbiamo cercare di pulire immediatamente questi posti, in modo tale che non sia da padrona a topi, blatte e altri animali che potrebbero creare anche danni ai cittadini. Facciamo vedere la nostra città, una città bella, pulita, ordinata, perché nella nostra città ci sono dei punti turistici non indifferenti che altre città sicuramente ci invidiano, ossia il mare, ossia i reperti archeologici, eccetera.